Il Teatro Verdi va lasciato esattamente com'è, qualunque attacco a un edificio storico è un atto criminale e nazista. Chi lo tocca deve essere arrestato, arrestato. Qualunque amministrazione tocchi il Teatro Verdi deve essere presa a calci nel culo. Qualunque amministrazione. Non si tocca più nulla, è ora di smetterla, che distruggono le case loro, i loro condomini di merda. La volontà della città è quella di recuperarlo in realtà, secondo il progetto originario del Poletti. Sto dicendo questo, il Poletti, chi è il coglione che vuol fare in un modo diverso? C'è una polemica perché il Poletti e il Poletti, non c'è un'idea, qualunque altra idea è un'idea criminale, è un'idea di assassini che odiano la loro città. Quindi chiunque lo faccia, io non so nulla. Ho parlato con il mio amico assessore del fatto in sé, Cecchini, come è sempre assessore morale, ho parlato di questo, so che esiste la questione, c'è il nuovo assessore che è pur degno di interesse, quindi non so che interesse di interesse, ma qualunque progetto che sia estraneo a una ricostruzione fedele rispetto al Poletti è un progetto criminale. Quindi io sarò contro per sempre e lì inonderò di merda. Il terremoto sarà niente al confronto. Italiano, sei grande? Era preciso? Perfetto, perfetto.